E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Roid e oggi vi voglio parlare di 6, o anche più, cose sbagliate che ha fatto Borderlands 3 e che vorrei corrette nei prossimi giochi. Per cose sbagliate intendo cose che non mi sono piaciute, che erano presenti al lancio o che comunque sono presenti nel gioco, quindi potrebbero essere state corrette o no, ma che diciamo in primo luogo non avrebbero mai dovuto essere state inserite. Quindi partiamo dal primissimo punto, le consacrazioni e le armi leggendarie. Le consacrazioni piacciono a ben poche persone. Sono tante, la maggior parte sono inutili e quelle due o tre che sono utili sono troppo utili e ti costringono a dover utilizzare quella specifica consacrazione per far funzionare le build. Questa è una cosa che non voglio più rivedere nei prossimi Borderlands. Le consacrazioni sono un'ottima idea per aggiungere diversità alle armi, ma devono dare dei bonus piccoli o rendere l'arma differente. Non devono rendere l'arma inutile senza la consacrazione. Questo è qualcosa di obbligatorio. E appunto, vi dicevo prima le leggendarie, l'altro problema sempre delle armi è che, beh, ci sono tantissime leggendarie ed è una cosa positiva. Guardate, rispetto a Borderlands 2 abbiamo quasi il triplo delle leggendarie. È una diversità enorme e adoro. Il problema è che sono troppo troppo comuni. Ogni miniboss, ogni boss darà due, tre leggendarie. E questo è un problema. Non ci sono armi più rare delle leggendarie. Non c'è motivo di farmare le armi. Quindi, è veramente noioso. Quando si ottiene una leggendarie, non c'è più l'emozione di dire, wow, una leggendarie chissà cosa farà. A parte perché ci sono delle leggendarie che sono assolutamente inutili. Barrage, che letteralmente le armi viola sono migliori delle leggendarie. Ma anche perché ormai siamo troppo abituati a vederle. Se ci fosse stata una rarità migliore, come ad esempio le perlacce, le seraph, le armi frezzanti, tanto per dire, ci sarebbe stato qualcosa di più difficile da farmare che ti avrebbe fatto dire, wow, quando l'avremmo ottenuto. Eppure, non è stato così. E questa cosa, come ben sapete, nonostante siano state rimosse molte consacrazioni che avevano effettivamente dei problemi, Beh, diciamo che non è stata fissata del tutto. Come seconda cosa, l'ottimizzazione del gioco. Questa cosa è stata fissata adesso. Il gioco è fluidissimo e va benissimo. Ma al lancio Borderlands 3 era un obbrobrio assoluto. Persino chi aveva delle schede grafiche estremamente potenti, laggava. A caso. Se uno mirava e usava il mirino dell'arma, come sto facendo io adesso, il gioco frizzava tantissimo, scattava e dava problemi enormi. E non c'era nessuna soluzione. Quindi non si poteva usare i cecchini al lancio del gioco, bensì bisognava sparare senza mirare, altrimenti il gioco laggava. E beh, su un gioco come Borderlands direi che questo è un gran problema, se le armi dan problemi al gioco. Inoltre c'erano problemi con la DirectX 12 che molti computer vendavano direttamente in tilt quando la si usava e bisognava riavviare il computer perché non si riusciva nemmeno a uscire dal gioco, rimaneva una schermata nera e basta. Quindi diciamo che anche l'ottimizzazione faceva schifo al lancio. Però come vi ho detto all'inizio è stata enormemente sistemata e corretta e adesso il gioco va che è una meraviglia. Quindi molto molto bene. Come terzo punto abbiamo l'endgame, raid boss, consacrati eccetera. Quindi tutte quelle cose che troviamo una volta finita la storia. Iniziamo dai consacrati. Consacrati che sono un'ottima giunta, rendono i nemici diversi e ti danno dei mini mini boss da sconfiggere. Il problema è che alcuni consacrati sono estremamente fastidiosi, ma veramente tanto. Sono un problema. Sto parlando di quelli che vanno a, beh, innanzitutto riflettere i proiettili. Quindi non potete eliminarli. Ed è una cosa stupida. Riflettere i proiettili in un gioco dove i proiettili sono lo scopo del gioco. E questo dà problemi. Perché, beh, a meno che non avete una build che si basa sul melee o sul danno ad aria e potete danneggiare di fianco questi nemici. Non potete eliminarli, anzi vi elimineranno loro perché lo scaling dei proiettili è diverso. E i nemici hanno molta più vita di voi e fanno meno danno. Quindi quando un vostro proiettile vi colpisce perché è stato riflesso, morite all'istante. Ed è una cosa stupida. La seconda cosa sono i raid boss. Abbiamo due takedown con due boss che, ok, potrebbero essere raid boss anche se proprio non lo sono. Abbiamo un vero raid boss, il Movoran. Abbiamo le prove che però non hanno un raid boss alla fine, sono dei boss normalissimi. Abbiamo gli eventi che sono stati modificati di recente, quando sono stati resi permanenti. E il boss finale adesso ha livello di danni al pari di un raid boss. Non abbiamo nessun raid boss vero e proprio. Non c'è nulla di estremamente diverso come il figlio di Cromerax, come Iperius. Non chiedo qualcosa a livello di Vernivorus perché sarebbe assolutamente ingiocabile. Il problema è che non c'è nulla di difficile. Con un'ottima build, shottate qualunque raid boss, punto. Su Borderlands 2 non era così. Su Borderlands 2 alcuni personaggi, anche con la miglior build in assoluto, non potevano farli a raid boss. Era esattamente la parte opposta, era peggio. Quindi diciamo che ci vorrebbe qualche raid boss in più. Soprattutto al lancio, perché al lancio non c'erano takedown, non c'erano raid boss e non c'erano eventi. L'head game era inutile. Ed è proprio perché voglio fare la parte, diciamo, finale di questa discussione. L'end game. L'end game è assolutamente pessimo. Non c'è nulla da fare, non c'è replayability. Già ho discusso in passato che la modalità Chaos va ad applicare tutte le differenze di scaling che sono presenti nella modalità New Game Plus, vero cacciatore, eccetera. E quindi non c'è motivo di giocarla quella modalità. Non c'è motivo di ripetere la storia e quindi si perdono già 30-40 ore di replayability. Inoltre, appunto, non essendoci raid boss, come abbiamo discusso poco fa, una volta che uno finisce il gioco e si è fatto la build perfetta, fa le prove, che sono una stupidata. Fa gli eventi, che probabilmente ha già fatto per farsi la build e quindi non ha neanche senso farli. Si fa i due takedown. Se ha il DLC 6 si fa il Movor, altrimenti non lo fa. Fine. Non c'è altro da fare. E rispetto a Baroness 2, dove bisogna rifare la storia tre volte, poi ci sono gli OP level, con il Digistrack Pick, ci stanno vari raid boss, ci stanno delle arene. Tutte quelle cose non ci sono più e non si possono fare. E beh, la differenza si sente enormemente. Andiamo quindi al quarto punto. Lo scaling della Mayhem e dei modifier. Perché questi sono un problema, secondo me? Sono un problema perché, beh, innanzitutto, nessuno sano di mente apprezza la Mayhem così come è stata concepita. Diventa più difficile il gioco, ok. Scaling più difficile, ok. Come gli OP level. Ma poi ci sono questi modificatori che danno solo ed esclusivamente problemi e fastidio. Non sono divertenti da giocare. Non sono divertenti da scegliere. E visto che non possiamo sceglierli manualmente per decidere cosa mettere sopra, dobbiamo rollare all'infinito per trovare qualcosa che non ci dia troppi problemi. Perché? Perché fare qualcosa di così stranamente complicato senza motivo? Io non riesco a capirlo. Perché non fare uno scaling come la Mayhem 11 e basta? Può al massimo mettere delle cose positive, quindi solo modificatori facili mentre aumenta la difficoltà. Fare queste cose extra come i rotiatori e i nemici immuni agli elementi e le pozze per terra che non ti fanno star fermo è una noia. E infatti la maggior parte dei giocatori, all'uscita della Mayhem 11, ha inserito Mayhem 11 e non ha mai più giocato a Mayhem 10 o inferiore. Se non, perché è costretta? E in questo caso faccio me come esempio. A parte, diciamo, quando c'è stato l'evento del loot del universe con lo Schluter e la Mayhem 10 per ottenere 5-6 leggendari per ogni nemico duro, Io non ho mai giocato a Mayhem 10 se ne avevo la possibilità. Perché mi dà fastidio tutto riguardo a Mayhem 10 e sono stracontento sia stata inserita la 11 e sempre a quella gioco. Quindi ditemi voi nei commenti cosa ne pensate riguardo a questo perché è un argomento comunque un pochino controverso. Vediamo ora il quinto punto. Il miliardo di armi diverse presente in Borderlands 3. Non sto qui a discutere se è veramente un miliardo o no perché sì, ci sono così tante armi. Il problema è che nonostante ci siano tutte queste armi diverse non si sente la differenza. Cosa voglio dire? Invece di fare 4 tipi, 5 tipi di pistole diverse che hanno parti diverse eccetera, quindi pistola, revolver, pistola base, pistola automatica eccetera. Fare delle pistole che sembrano diverse, hanno un aspetto diverso, giocano in modo diverso. Si hanno un milione di pistole che sono tutte uguali però una spara una frazione di secondo più lenta, l'altra fa 5 danni in più eccetera. Sono tutte diverse, per carità, fanno tutte una cosa diversa, ma è talmente piccola la differenza che sembra di usare sempre la stessa arma. Addirittura questa cosa si nota talmente tanto che alcune leggendarie, a parte per il danno, sembrano assolutamente identiche perché fanno la stessa cosa. Quindi, beh, sinceramente preferirei a questo punto avere un milione di armi invece che un miliardo, ma avere 5 o 6 tipi di pistole, 5 o 6 tipi di assalto, 5 o 6 tipi di SMG. Tutti diversi che hanno parti diverse e ti fanno sembrare armi diverse che usano le stesse munizioni. Spero di essermi spiegato bene perché è una cosa un po' difficile da spiegare, è più una sensazione che altro. Infine, l'ultimo punto della mia discussione sugli errori di Borderlands 3 è riguardante gli alberi abilità. Ottima l'idea di mettere un quarto albero abilità. Ogni personaggio ha un'infinità di build diverse adesso grazie al quarto ramo. Eccetto, beh, il quarto ramo suo fa schifo. Però, il problema è che nessuno rigiocherà il gioco per iniziarlo col quarto ramo. Comunque, molto pochi lo faranno. Mentre, se ci fosse stato un quinto e un sesto personaggio, come Borderlands 2 e il pre-sequel, in quel caso tutti avrebbero ricominciato il gioco anche con quel personaggio. E si è persa anche in questo caso molta replayability del gioco. Perché mai io dovrei reiniziare il gioco con un altro ramo quando posso semplicemente resettarmi la build e usarlo direttamente all'intero? Perché dovrei provare la progressione del ramo e star lì a livellare sperando di far punti per vedere le nuove abilità quando posso direttamente resettare la build, metterlo sul nuovo personaggio e boom, fine. C'ho già il ramo completo e posso fare tutte le build che voglio. Se invece avessimo un quinto e un sesto personaggio, allora l'unico modo per giocarli sarebbe iniziare una nuova partita e avrebbe un feeling totalmente diverso. Ora, mi ricordo che al lancio del gioco avevano detto che non sarebbero mai arrivati. E infatti è stato così. E una delle spiegazioni era che tutti i personaggi avevano tantissime linee di testo e dialoghi, eccetera. E fare un quarto ramo sarebbe stato molto più facile che andare a dover fare tutte queste linee e dialoghi per un quinto personaggio. Ok, ma anche il pre-sequel e il 2 avevano questa cosa. E non solo l'avevano, ma i personaggi del quinto e sesto posto, diciamo, di questi giochi sono andati a diventare tra i più amati della saga, escludendo Gage, magari, però. Krieg ha avuto un intero DLC su di lui, su Borderlands 3. Eppure è un personaggio che era un quinto DLC. Aurelia. Aurelia è diventata un boss in Borderlands 3. Ed è stato eliminato, è diventata una cattiva. Ed era un personaggio giocabile. Il clone di Jack. Il clone di Jack ha avuto un intero DLC su Borderlands 3. Ed era un quinto personaggio, un sesto personaggio. Quindi, per favore, Gearbox. Ok che con Tiny Tina's Wonderlands avremo 6 rami abilità e il personaggio ce lo facciamo noi. Ma Borderlands 4. Mettici due personaggi come DLC, che magari vendi anche un po' di più, né? Metti un po' di replayability. Per questo video è tutto. Se vi interessa sapere qualcosa di nascosto o segreto sugli elementi di Borderlands 3, vi invito a cliccare qui.